raddrizzati, molla, vai, molla ok, inspira, vieni su, butta fuori, vai giù abbiamo trovato l'L5 un po' bloccata da questo lato e il sacro di compenso dall'altro Mi sento un po' più leggero eh Meglio? Spalla? Perfetto Si muove bene Prima era molto più inchiodata Stiamo a posto Cerchiamo di vincere Speriamo